primo mazzo incluso nel regolamento base composto di quattro carte boss tutte le carte sono col foil e sono plastificate quindi quattro boss 12 carte missione 45 carte conflitto di due tipi diversi ci sono mostri normali tra virgolette mostri che obbliga che sei obbligato ad attivare sei eroi cioè tre fronte retro alcuni di questi eroi come vedi sono marcati con questo simbolo qua che sta ad indicare che sono classificati come eroi di mostro regolamento base come eroi universali cioè eroi che puoi usare anche in altri mazzi aprendo una parentesi nel primo kickstarter sono stati forniti anche tre eroi sempre universali ambientate intengo il wood come anticipazione della campagna attuale e ovviamente un regolamento che ho un foglietto pieghevole molto semplice come mazzo ma non per questo banale semplice nel senso che non si discosta molto dal regolamento generale vediamo il setup usi tutti e 17 i dati mescola e divisi in tre mazzi da 15 carte l'uno le 45 carte conflitto e metti tre mazzetti a faccia in su scegli uno dei sei eroi e imposti i dati statistica sui valori indicati e o eventualmente modificati dall'eroe in questo caso quattro due di strategia è un misero uno di recupero mescoli quattro boss a faccia in giù e se questa non è una delle tue prime partite peschi quattro carte missioni che le metti tutte in una riga e scarti una di queste quattro mantenendo poi l'ordine di posizione le missioni sono di varia natura guarda questa per esempio se attiva devi sconfiggere quattro nemici di livello 2 i livelli sono indicati qua in alto o search and destroy selezioni un mazzetto e mentre questa missione è attiva tutte quante le carte di quel mazzetto sono considerate arancioni cioè è obbligatorio attivarle occhio che per ogni missione che non riesci a risolvere prima che cominci la battaglia con il boss finale devi aggiungere un mostro in più i boss hanno tutti quanti hanno tutti quanti l'indicazione di quanti mostri entrano in gioco e come se avesse quindi ogni missione anzi come se ogni missione aggiungesse un teschetto in più sulla carta del boss rispetto all'ossatura del regolamento generale che ti lascio il link in descrizione in solar sentinel cambia il fatto che devi obbligatoriamente attivare nello step di attivazione una delle carte arancioni se è presente in cima ad uno di tre mazzetti e che alla fine dello step di ingaggio cioè quando scarti tutte quante le carte conflitto sconfitte e non devi scartare anche una delle carte in cima a uno di tre mazzetti ma ovviamente non puoi scartare una carta arancione questo è per velocizzare l'entrata del boss perché infatti quando uno dei mazzetti finisce che sono composti di 15 carte scegli se fronteggiare subito il boss oppure continuare a pomparti in attesa della battaglia finale comunque quando tutti e tre mazzetti sono finiti è ora di sconfiggere il boss la battaglia con il boss funziona in questo modo attivi il boss è rivelato oppure ne peschi uno a caso se sono ancora tutti e quattro coperti e nessuna delle carte li ha rivelati e leggi attentamente quello che c'è scritto poi attivi le carte conflitto come al solito quindi questa chiama dentro un altro mostro queste carte qua le prendi dai due mazzetti che sono rimasti o dalle missioni che non hai concluso e devi anche in questo caso attivare prima i mostri arancioni che se a loro volta hanno un teschietto ne richiamano un altro quindi se attivo questo che c'è un teschio questo si sposta qua e devo attivarne un'altra se questo ne avesse un altro teschio continuerei a pescare all'infinito non ci sono particolari condizioni di vittoria alternative sempre rispetto alle regole base quindi vinci quando viene sconfitto il boss anche se rimangono carte nel suo entourage se giochi con le missioni come detto prima il tuo obiettivo è completarne che sono tre perché ne peschi quattro le metti in in fila e poi decidi qual è quella più strong che butti via quindi se decidessi di buttare via questa devi risolverle in questo ordine qua partendo da sinistra a destra ogni missione che non risolvi prima di fronteggiare il boss diventa un mostro come ti ho già detto dopo le prime partite se vuoi aumentare la difficoltà ogni volta che vinci una partita in quella successiva hai una missione in più e devi bandire un dado o spossarne e metterle nell'area esausti addirittura tre e di livelli sono fino al sesto che è veramente strong perché nove missioni da fare sono tantissime anzi vabbè otto sono un'enormità grazie per aver guardato questo video alla prossima